Voglio sentire la visione Massimo che cerca sotto a cantare ma voglio sentire la voce Tutti i fungimoni tutto avanti, creavano poco di fuoco tutto quanto assieme Avanti, 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 avanti A Augusta, станé nascendo la voce Ch recientemente Buongiorno! 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 Sì, 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 sì facciamo una prova, al mio 3 gridiamo tutti insieme il show, questa è una prova, però voglio sentire già la voce, uno, due, tre, io so che il show sarà dieci volte più forte, questa è vera, uno, due, tre, tre sottotitoli ormai, un altro giro, un altro giro, un altro giro, una cittola sottotitoli e una trupa qui arriva, un'altra ma, si non es malvora, un'altra ma non è un'altra ma non è un pezzo, quindi nel piano no mi soOU di giro, il quino è un sezzo, un giro, dunque è un Grazie a tutti. Grazie a tutti.